A stalla vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot Rieccoci qua ragazzi con i nostri carissimi Goku e Gohan con la loro miticissima trasformazione Super Saiyan Full Power O detta anche Super Saiyan del quarto stadio Ragazzi mamma mia che cavolo di roba finalmente siamo arrivati a questo punto della storia in cui Goku e Gohan hanno sbloccato nella stanza dello spirito e del tempo questa nuova trasformazione Quindi dopo tutte le trasformazioni epiche viste appunto con Vegeta e con Trunks anche se a Trunks ci hanno saltato sia Super Trunks e sia Ultra Trunks e ho odiato sta cosa Ecco ragazzi che ci ritroviamo a poter utilizzare Goku e Gohan già trasformati in Super Saiyan Quindi sono già Super Saiyan però il Super Saiyan del quarto stadio quindi molto molto più potente di Super Vegeta, Ultra Trunks e del vecchio Super Saiyan normale che utilizzavano Quindi ragazzi è una roba davvero assurda e questa trasformazione consiste nello stare sempre trasformati anche in periodi di pace Anche in tranquillità perché così si abitua il corpo e anche la mente a sopportare questa trasformazione e appunto poi scatenare ancora più potenza nei combattimenti Quindi ragazzi secondo me questa trasformazione è assolutamente molto intelligente e appunto utile Però ragazzi la cosa brutta è che non ha i muscoli belli pompati e i capelli sparati che a me piacciono Tipo quelli appunto di Super Vegeta e Ultra Trunks peccato ragazzi però vedremo l'utilità di questa nuova trasformazione di Goku e Gohan al Cell Game Mancano 9 giorni quindi ragazzi intanto andremo a fare allenamenti e proveremo questa nuova trasformazione di entrambi Comunque oggi siamo qui per andare a fare una nuovissima missione storia Non so assolutamente che cosa accadrà l'unica cosa che so è che ci dobbiamo avvicinare alla porta di casa di Goku e si avvierà la missione Poi ragazzi non so davvero che cavolo succederà Ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare se non l'avete visto Lo scorso episodio in cui ragazzi siamo andati a concludere la scorsa e lunghissima missione storia In cui abbiamo visto praticamente per la prima volta Gohan trasformarsi in Super Saiyan Goku è riuscito a farlo trasformare Abbiamo visto un po' i loro allenamenti Cell intanto ha costruito l'arena per il Cell Game Dopodiché è andato in diretta tv e ha annunciato a tutto il mondo appunto il suo torneo Cell Game Scatenando il panico sulla terra Poi ragazzi abbiamo visto Goku e Gohan in Super Saiyan full power uscire appunto dalla stanza dello spirito e del tempo E Goku è andato a parlare un attimino con Cell e si è reso conto che lui non ce la potrà fare ma Gohan si Quindi ragazzi se per caso non avete visto lo scorso episodio mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati Detto questo adesso ci concentriamo assolutamente su questa missione storia Che si chiama Arrivano gli Androidi Episodio 8 Ultime Ore di Pace Il riepilogo ci dice manca ancora del tempo all'inizio del Cell Game 9 giorni per la precisione Alcuni decidono di allenarsi altri di riposare Quindi alcuni guerrieri vanno un attimino ad allenarsi Altri si riposano tipo Goku e Gohan che si sono già allenati abbastanza Che hanno deciso di fare un giorno allenamento e un giorno riposo Alternando i giorni Quindi ragazzi non c'è scelta più logica Visto che si sono allenati già duramente dentro la stanza dello spirito e del tempo Ognuno dei guerrieri cerca di godersi gli ultimi momenti di pace E certo ragazzi perché è arrivato poi il Cell Game tragedia totale Quindi cercano di godersi gli ultimi momenti e fanno bene Il Super Saiyan Full Power è davvero fantastico E ragazzi entriamo in casa di Goku Sì entriamo vediamo Adesso inizia la missione Oh allora anzi dobbiamo attivarla noi Ah casa dolce casa dice Goku ragazzi Ovvio è da tanto che mancava appunto da casa sua Quindi ciao Kiki mi vedi sono biondo adesso Sono sempre biondo capelli neri via ormai Parla vediamo ragazzi Adesso parte la missione Ok attenzione Goku hai terminato l'allenamento vero? Facciamo una gita in famiglia Oh bellissima cosa ragazzi Una gita in famiglia Perché no? Perché no? Cioè Kiki penso se lo merita il tutto Poi c'è tutto questo periodo di pace Prima del Cell Game Quindi ci sta tantissimo Vediamo cosa risponde Beh in realtà non ho finito Ma va bene Ok quindi accetta Nonostante sa che si devono allenare C'hanno da fare Però dice di sì Attenzione vediamo Allora è deciso Oh Kiki tutta contenta Ora che Goku ha la patente Potremo farci prestare Una grande auto da mio padre E fare una gita Al lago tutti insieme Ma come non avevano La macchina già loro? Cioè Goku aveva un'auto Mi ricordo Quella di Bulma ragazzi Però qui non viene citata Viene citata invece Un'auto del padre di Kiki Ma che cavolo perché? Cioè non ha senso ragazzi Vabbè facciamo Avanti Goku dice Ricevuto Cosa dobbiamo portare? È minimo tanti bagagli Ecco perché ci vuole La macchina del padre di Kiki Ci vuole una spaziosa Per metterci un sacco Di valigie dentro Sicuro Penserò io al pranzo Tu potresti rimediarmi Della carne e del pesce? Sì ragazzi Non c'è cosa più semplice Carne e pesce? Nessun problema Quanto te ne serve? Giustamente Dobbiamo quantificare Dunque mi serve Ok ragazzi Oggetti necessari Selvaggine di qualità 3 Carne di coniglio Surgelata 2 Pesce gigante Grasso 2 Vai Portami tutto E preparerò un vero banchetto Kiki io mi fido di te Tu mi fai andare a fare Tutta sta roba Ad andare a prendere Tutti questi ingredienti Ma tu mi raccomanda Come cucini Sennò veramente Rimango deluso Avanti Ok ragazzi Vediamo un po' Che cosa accade Ok Mettiamoci all'opera Ultime ore di pace Raccogli i materiali Necessari per Kiki Subitissimo ragazzi Quindi dobbiamo uscire Non abbiamo nulla Dei materiali Che ci servono Quindi Selvaggine di qualità 0 su 3 Carne di coniglio Surgelata 0 su 2 Pesce gigante Grasso 0 su 2 Non va assolutamente bene Quindi ragazzi Usciamo Sì Oh Ed eccoci qua fuori Ragazzi Allora Dobbiamo andare a prendere Assolutamente Questi materiali Allora Già leggendo Ragazzi Mi sono fatto un attimino L'idea Allora Selvaggine di qualità La selvaggine di qualità Di regola La potremo trovare Dovunque Quindi gli animali Normalissimi Carne di coniglio Surgelata Mi ha fatto pensare Ad un posto Con i ghiacci Innevato insomma Perché Surgelata Non è che possiamo andare Al negozio A prenderla Quindi Dobbiamo andare appunto A Polinia di Darling Dove si trova appunto Il laboratorio del Dottor Gelo Nei dintorni Poi Pesce gigante Grasso Dobbiamo andare sempre lì Penso Cioè ragazzi Visto che ci troviamo Poi in quel posto Andiamo anche a pescare Apriamo la mappa E ragazzi Facciamo Vai alla mappa del mondo E ci spostiamo qui Ragazzi dove ci sono le montagne Innevate In questo bellissimo posto Quindi Polinia di Darling Vai Sì Oh E rieccoci qua ragazzi In questo splendido posto Pieno di neve Mi piace davvero tantissimo Siamo appena arrivati E tra l'altro Già noto ragazzi Un piccolo messaggio Interessante Non mi dispiacerebbe Un po' di carne Di renna Ottima Noi stiamo cercando La selvaggina Quindi la selvaggina Comprende un po' Tutti gli animali Quindi ragazzi Andiamo da questa persona Vediamo subitissimo Qui dovrebbe essere Vero? Sì c'è una persona ragazzi Proprio qui Vediamo Vediamo se ci dobbiamo parlare O meno Allora No non ci dobbiamo parlare Allora ragazzi Attenzione Oh ragazzi Qui abbiamo un sacco di renne Sono renne ragazzi Quindi prendiamole Vai prendi Vai Goku Vediamo un po' ragazzi Non ci siamo ancora Quindi velocemente Andiamo a prendere gli altri Vai Goku Prendi questa Pam Vediamo Niente da fare raga Carne di renna Ottima Non ancora Vai questa Proviamo Sì ragazzi Selvaggina di qualità 3 su 3 Fatto Lo sapevo che in questi animali ci avremmo trovato selvaggina di qualità Quindi perfetto Adesso ci tocca trovare sta cavolo di carne di coniglio surgelata Mai sentita prima Non l'abbiamo mai presa prima Oddio Oddio ragazzi Ehi c'è della carne di coniglio surgelata in quel blocco di ghiaccio No ragazzi No seriamente Manco a farlo apposta Cioè al secondo posto sta Carne di coniglio surgelata Mi giro e vedo questo messaggio Quindi ragazzi Dobbiamo andare assolutamente laggiù Stiamo arrivando Ragazzi Intanto prendiamo tutte queste sfere Z Mamma mia ragazzi Quanto sono gustose E il tizio sta qua Ehi c'è della carne di coniglio surgelata In quel blocco di ghiaccio Si fa pure la domanda E in questa maniera ci aiuta Quindi qui abbiamo un bel blocco di ghiaccio enorme Vediamo Perché mi ricordo che si può distruggere Vediamo Sì Distruggi Vai E vai ragazzi Sì Sì Carne di coniglio surgelata 3 su 2 addirittura Ora devo solo prendere del pesce Perfetto raga Quindi abbiamo trovato anche la carne di coniglio surgelata Se no ragazzi Io non sapevo dove sbattere la testa Questo signore ci ha davvero aiutati Quindi grazie mille signore Grazie mille Sembra una persona gentile lei Quindi grazie E adesso l'ultimo materiale Ovvero il pesce gigante grasso 0 su 2 Dobbiamo trovarne 2 Quindi andiamo a pescare Apriamo la mappa E controlliamo Allora ragazzi Abbiamo Due punti di pesca Sì Due punti di pesca Uno è qui E l'altro è qui Vediamo ragazzi Ok Possiamo andare in questo punto qui Di fronte a noi Quindi stiamo attenti ai nemici Più che altro Perché ce ne sono tantissimi in questo punto Oh ragazzi Eccoci qua Perfetto Ci sono un po' di nemici Ma ce la dovremmo fare Quindi Pesca Vai Così blocchiamo anche l'attacco dei nemici Vai Goku Ragazzi con Goku Super Saiyan Fantastico pescare con Goku Super Saiyan Proviamo a pescare Vediamo Quindi Agitiamo la coda Vai Goku Caro Goku Super Saiyan Questa scenario Pesce gatto azzurro Pesce gatto azzurro Pina di pesce gigante Fegato di pesce gigante Ma non ci siamo ancora Usa esca Sto punto usiamo l'esca raga Vediamo che cosa Riusciamo a combinare con l'esca Calamaro guizzante piccolo Vai usiamo questo Sì usiamo Allora ragazzi Pesce blu Dente di pesce gigante Fegato di pesce gigante Non ancora Pina di pesce gigante Attenzione Due Avanti Ragazzi stiamo attenti No 0 su 2 Mannaggia Mannaggia Dai ragazzi Ce la faremo Dai ragazzi Ci dobbiamo credere E il pesce uscirà fuori Dai Pesce gigante Extra grasso Ragazzi potrebbe essere questo C'è questo extra Che mi fa pensare Avanti Vediamo Deve essere per forza Pesce gigante grasso E non extra Però ci siamo ragazzi Dai manca poco Ci siamo Straordinario Pesci catturati Pesce blu Oggetti ottenuti Pesce gigante Extra grasso 1 Ma abbiamo Pesce gigante Grasso 2 Avanti Ci dovremmo essere Vediamo Eh sì ragazzi Che ci siamo Mamma mia Ok ultime ore di pace Dai a Kiki I materiali Che hai raccolto Ok Ottimo Questo dovrebbe essere tutto Ora torniamo da Kiki Perfetto ragazzi Ci siamo Quindi abbiamo fatto benissimo A venire qua Quindi Apriamo la mappa Vai alla mappa del mondo E ragazzi Subitissimo Torniamo a casa di Goku Vai Sì Eccoci qua ragazzi Arrivati Quindi adesso Dobbiamo andare a dare a Kiki I materiali Che abbiamo raccolto Quindi perfetto Allora Gohan Credo sia con noi Sì ragazzi Ah no è già atterrato Incredibile Già sta lì Quindi entriamo in casa Vai Spero che Kiki sia contenta Dei materiali che abbiamo raccolto Quindi andiamo a parlare con lei Parla Buona caccia Dice Kiki Ok Allora Prepara un piatto Consegna gli oggetti raccolti Non fare nulla Consegna gli oggetti raccolti Non siamo mica fessi Non ci facciamo fregare Da queste scelte Allora Kiki Andranno bene come ingredienti? Ragazzi Ci ha chiesto quegli ingredienti Siamo andati a prendere specificatamente Quegli ingredienti Non possiamo sbagliare Avanti Si è già tornato Che bravo Tutta contenta ragazzi Meno male che sta contenta Non vogliamo che Kiki si incazza E mostra il suo Kaioken Mi ricordo che appunto Nella saga di Garlic Junior Se non sbaglio C'era appunto Kiki col Kaioken Tutta incazzata al massimo Mamma mia ragazzi Avanti Eh 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 Non vedo l'ora di mettermi a tavola Eh ragazzi Goku è un campione in questo Quindi vuole assolutamente mangiare Vediamo che cosa accade Ok Kiki dice Preparerò qualcosa di eccezionale Vedrai Kiki lo spero Perché io sono andato a farmi il culo lì Al freddo Mi sono congelato le chiappe Per andarti a prendere appunto Tutta quella roba che mi hai chiesto Quindi se non è buono il cibo Veramente Butto i piatti all'aria Avanti Ok Kiki se ne va ai fornelli Perfetto raga Vediamo che succede Tadam Ho finito Perfetto ragazzi Ha fatto già Kiki Quindi perfetto Quindi adesso Se veramente ha finito di preparare Si mangia Ragazzi Pancia mia fattica panna In questo caso riferito a Goku Che non vede l'ora di mangiare Avanti Wow Che profumo delizioso E già ragazzi Io non lo sento Però sicuramente ci sarà un profumo Incredibile in casa Anche perché I nostri ingredienti Sono i migliori Quelli che siamo andati a prendere poco fa Non si può dire nulla su questo Avanti Per l'occasione Ho voluto superare i miei limiti Ragazzi Ha superato il limite Del super saiyan Kiki Che stiamo Che stiamo dicendo Cioè ovviamente sta parlando Della sua cucina Del modo di cucinare Però mi ha fatto pensare Appunto Che ha superato i limiti Del super saiyan Cioè ragazzi Roba così Preparatevi a restare di stucco Perfetto Sì Sì siamo prontissimi Vai Ho già l'acquolina Vai vai Goku Dai Pregusta tutto E vediamo un po' Com'è Questo piatto O questi piatti Di Kiki Dai Dovrai tenertela Finchè non saremo arrivati Al luogo del picnic Oddio ragazzi Quindi ci sarà effettivamente Una specie di gita Di famiglia Con Gohan anche Quindi perfetto Muoviamoci allora Ok Bene Ok ragazzi Vediamo che cosa accade Perché sono davvero curiosa A sto punto C'è anche la macchina Una nuova macchina Deve essere del padre Appunto di Kiki Perché questa non l'ho mai vista Kiki dice È passato tanto tempo Dalla nostra ultima gita Sarà divertente E certo ragazzi Tra l'altro Due super saiyan Appunto In famiglia Fantastico Cioè È bello ragazzi Vedere In questo arco narrativo Goku e Gohan Sempre trasformati In super saiyan Full power Fantastico Che tengono questa forma Sempre attiva Invece Stanno tranquilli Cioè non stanno combattendo Però è bello Avanti Non vedo l'ora Di iniziare a mangiare Però guidare Non mi piace per niente Proprio da Goku Lo sappiamo che è così ragazzi A lui piace combattere Mangiare E anche riposarsi Però Guidare Non ne parliamo Non potremmo usare La nuvola d'oro Sì ragazzi La nuvola speedy Poi la useremo Con il super saiyan Ci sta un botto Sarebbe tutto più semplice Beh Ha ragione Ha ragione ragazzi In tre staremmo stretti No Beh sì ragazzi È piccolissima Ci va solo una persona E devono essere tutti degni Quelli che ci salgono su Non è che ci salgono cani e porci No E poi viaggiare in auto Ha un qualcosa di romantico Se lo dici tu Kiki A me l'auto non piace Sinceramente ragazzi Oddio Non mi piace Non mi piace Oh davvero È quello il punto Ok Kiki va bene Ti ascoltiamo Va bene Vediamo se Goku Continua a darti contro O se ti ascolta Sentiamo Goku ricordi la prima volta Che ci siamo incontrati E abbiamo volato Sulla nuvola d'oro Vediamo se si ricorda Goku ragazzi Sperando non sia Uno smemorato Certo che si Eravamo andati Dal maestro Muten Per farci prestare Il ventaglio Bansho Ok Ok ragazzi Vagamente mi ricordo Già Quando ti ho abbracciato Volando sulla nuvola d'oro Ho capito che eravamo Destinate a sposarci Addirittura da così poco Raga Kiki ha capito Una cosa così grande Mamma mia Che romanticismo Eh? Sul serio? Dice Goku Eh ragazzi Goku non sa nulla Sul romanticismo Lasciamo perdere Ah Che bei ricordi Eh per Kiki ragazzi Evidentemente sono dei bei ricordi Per Goku no Non se ne frega nulla Da quando ci siamo finanziati Fino al momento In cui ti ho rivisto Al torneo mondiale Non ho fatto altro Che pensare a te Oddio ragazzi Che tenera Kiki Dai diciamolo Diciamolo La mamma sembra felice Di passare del tempo Con papà Dice Gohan Eh già ragazzi Lo vedo bello sereno Anche a Gohan Con i capelli poi Raga Dorati Fantastico Ok Gohan Tra se e se Pensa Quando la malattia Al cuore L'ha colpito Si è preoccupata Da morire Certo ragazzi Ma Kiki Non si può dire Che non ci tenga Al marito A Goku Cioè non ha mai dato Segni che non ci tiene Forse vagamente Quando hanno litigato Alcune volte Ma ci tiene davvero Ho un'idea Ho un'idea Dice Gohan Sentiamo Sarà meglio che li lasci Soli Hanno bisogno Di un po' Di tempo Per loro Bravo Gohan Ci sta Ci sta Sì Per fare le cose romantiche Devono stare senza il figlio Certo Scusate Cioè sovrasta Adesso Ragazzi abbiamo Un sacco di allenamenti Da fare con Gohan E Goku E anche delle missioni Secondarie Quindi c'è sempre Da fare in questo gioco Squill e telefono Attenzione Eh Ehi È il telefono Chi sarà mai Boh ragazzi Non ne ho idea Sentiamo Ok Gohan Ha risposto al telefono Pronto Parla Gohan Tra l'altro Un Gohan Super Saiyan Con questi abiti Non una persona normale Che risponda al telefono Oddio raga Ah è Bulma Ciao Gohan Sono Bulma Puoi passarmi tuo padre Eh ragazzi Se ne sono andati Due secondi fa Con la macchina Oddio Stai cercando papà Mi dispiace Lui e mamma Sono appena usciti Ok Giustamente Bravo Bravo Gohan Digli tutto Davvero Ah Peccato Ragazzi Chissà che cosa Deve dire di così Importante a Goku C'è qualcosa Che ti preoccupa Sentiamo Sai Stiamo cercando Di riparare L'androide Che Krillin Ha riportato qui Ragazzi Parlano di C16 Questa non me l'aspettavo Questa telefonata In cui avrebbero Nominato C16 Quindi C16 In questo momento Appunto È diciamo Mal ridotto Ma lo hanno portato Alla capsule Corp E lo stanno riparando Quindi sono davvero Contentissimo di questo Ok quindi Bulma sta cercando Di ripararlo Assieme a suo padre Ok ragazzi Roba Interessantissima Riguardo sempre C16 Dobbiamo sostituire Dobbiamo sostituire Un chip Cerebrale Ma non abbiamo I materiali Per realizzarlo Ed ecco che Appunto Serve Gohan Per andare a prendere Questi materiali Per il chip Quindi fantastico Avanti Ho fatto qualche ricerca E ho scoperto E ho scoperto Che i metalli Che ci servono Si trovano Solo nei boschi Vicino a casa vostra Cioè ragazzi Roba assurda È proprio destino Che Gohan Aiuti A riparare C16 Mamma mia Che roba Oddio Ste cose Non le abbiamo mai Viste nell'anime Quindi sono cose Aggiuntive del gioco Fantastico Speravo che tuo padre Potesse raccoglierne un po' E ora minimo Lo fa Gohan Cioè ragazzi Me lo aspetto Dai Tutto qui Posso aiutarti io Allora Non ho niente da fare Al momento Oddio raga Fantastico E infatti ragazzi È proprio così Gohan è rimasto da solo Al momento Dopo deve raggiungere Goku e Kiki E quindi Può fare tranquillamente Tutto Davvero Sarebbe fantastico Grazie Guardate Bulma Quanto è contenta Di aggiustare C16 Cioè Gohan vuole aiutare Bulma Voleva essere aiutato Quindi adesso Che può essere aiutato È contentissima Quindi vedo tanta gioia Mamma mia ragazzi Ok Bulma dice Ti dico tutto quello Di cui abbiamo bisogno Sei pronto? Sì ragazzi Penso di sì Vediamo Ok Oggetti necessari Memorite Tre Ok ragazzi Solo questo è il materiale Sì Ricevuto Sarò di ritorno In un battibaleno Perfetto raga Fantastico Sei un angelo Gohan Ok Fantastico raga No no Bellissimo Bellissimo tutto questo Che riguarda appunto C16 Il mio personaggio preferito In assoluto Ok Quindi Memorite 3 Non è un brutto modo Di passare il pomeriggio Assolutamente no Gohan Magari ci fossi io Al tuo posto Ad aggiustare C16 Mamma mia raga Bene Ok ragazzi Vediamo adesso Che cosa accade Ah siamo con Gohan Raga La trasformazione Super Saiyan Di Gohan È ora disponibile E sono contentissimo Di questo Avanti Ok vediamo Ultime ore di pace Raccogli i materiali Necessari per Bulma Vediamo Memorite 3 Ragazzi Allora io direi Di fermarci Tranquillamente qua Siamo da soli Con il nostro caro Gohan Ma guardatelo Quanto è figo Con il mantello Con questo taglio di capelli Con il colore Del Super Saiyan Full Power Fantastico Allora Come potete ben vedere Qui ragazzi Abbiamo sia la missione storia Che abbiamo iniziato oggi Che continua ancora Perché è bella lunga E poi abbiamo da fare Un sacco di altre Missioni secondarie Ad iniziare da questa Del maestro Muten Poi abbiamo Questa per Pilaf Questa per Otto Ok Questa per Junior Addirittura E questa per Baba Quindi ragazzi Abbiamo tante missioni Da fare sia con Goku Super Saiyan E sia con Gohan Super Saiyan Tutte prima del Cell Game Quindi le andremo a fare Assolutamente Perché sapete che Non mi voglio perdere Assolutamente nulla Per quanto riguarda Questa missione Ultime ore di pace Che è bella lunga Guardate Ci dice Raccogli i materiali Necessari per Bulma Cosa che faremo Sicuramente Nel prossimo episodio Appena inizieremo E qui sotto Come potete ben vedere Abbiamo un sacco Di punti interrogativi Questo significa Che dopo aver raccolti Materiali Andremo a fare ancora Altra roba Credo Il tutto con Gohan E ragazzi Non ci sono problemi L'unica cosa Che dobbiamo spezzettare Questa missione storia Perché è davvero tosta E lunga Cioè non tosta Che è difficile Ma è parecchio lunga Quindi preferisco Spezzettarla Insomma ragazzi Oggi il tutto È stato davvero interessante Abbiamo iniziato Questa nuova missione storia In cui appunto A Kiki È venuta la felice idea Di fare questo nuovo picnic E ragazzi Mi ricordo che In Dragon Ball Z C'è proprio questa scena Giorni prima del Cell Game Quindi ragazzi Il tutto è davvero fantastico Perché questo gioco Riporta un sacco di momenti In Dragon Ball Z Che mi ricordo tantissimo Quindi fantastico Insomma Kiki ci ha mandati a prendere Quegli ingredienti Siamo andati un po' a cacciare A rompere il ghiaccio E a pescare Per prendere Quei tre ingredienti E lei ragazzi Ha preparato Vari piatti Davvero gustosissimi Che però dovranno mangiare Al picnic E non adesso Quindi hanno preso la macchina Stavano per partire Solo che Gohan Per un gesto Diciamo Di bontà Verso i loro genitori E per farli passare Qualche momento romantico Ha deciso di farli andare già E lui invece Si intratterrà un po' qui E intanto ragazzi Abbiamo visto Che il piccolo Gohan Ha avuto una chiamata da Bulma E a Bulma Servono alcuni materiali Ovvero appunto Memorite Per appunto Costruire il chip Nuovo per C16 Quindi ragazzi Davvero fantastico Non vedo l'ora di vedere Che cosa accadrà Perché è una cosa Che riguarda C16 Io ci tengo tanto A quel personaggio Sappiamo che non vivrà Ancora per molto E mi dispiace tantissimo Di questa cosa Quindi Tutto ciò che riguarda lui Mi fa letteralmente Balzare fuori Gli occhi dalle orbite Quindi ragazzi Mamma mia Io non vedo l'ora Di vedere proprio Che cavolo succederà Magari ci incontreremo Direttamente con C16 Lì alla capsule corpo Mi interesserebbe vedere Come va il tutto Intanto ragazzi Per oggi Ci fermiamo qua Poi prossimo episodio Iniziamo praticamente Precisamente Da questo momento Senza saltare nulla Partiamo E andiamo a prendere I materiali Per il chip Per C16 Ovviamente ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto E che vi abbia anche Un po' divertito Se volete ragazzi Lasciate un like Condividete Iscrivetevi Se non siete iscritti E ricordatevi sempre Che io Tornerò Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!